Professor Saverio Russo, il Fai Foggia torna all'Anfiteatro per estate Muse Stelle. Quest'anno si parla di città invisibili? Sì, abbiamo un po' forzato il contenuto del volume di Italo Calvino, le città invisibili pubblicato nel 72 per proporre una riflessione che sarà sviluppata in maniera analitica da Gloria Fazia sulle città scomparse della nostra Capitanata. Si parlerà di quattro centri, in alcuni casi ci sono i ruderi molto vistosi, in altri molto labili, tracce molto labili. E' un modo per attirare l'attenzione delle istituzioni e dei nostri concittadini sulla necessità di tutelare e valorizzare la memoria e se possibile anche i resti materiali di queste città non più visibili. Quelli che sono stati grandi città, pensi al ruolo che ha avuto Arpi o al ruolo non solo simbolico che ha avuto Fiorentino che ha pochi chilometri da Lucera. Professore, sicuramente è lodevole lo spazio che questa rassegna fatta di spettacoli, di intrattenimento riserva anche a questi momenti di informazione culturale. Noi facciamo parte del gruppo di progettazione della rassegna che si tiene qui in anfiteatro dall'inizio. Questo è il terzo momento. L'anno passato abbiamo parlato dei luoghi federiciani in Capitanata e l'anno precedente della pittura medievale del territorio di Capitanata. Continueremo a utilizzare questa splendida occasione che ci offre la rassegna qui in anfiteatro per allargare la conoscenza e sollecitare la valorizzazione di siti e luoghi della cultura del nostro territorio. Grazie.